Quarantottenne in manette per spaccio, un nuovo caso di incidente sul lavoro, FIOM CGL da nord a sud la mobilitazione, in provincia si ritorna a parlare del caso Eriantos 2, Lecce sarebbe bello un gol contro il Milan. Cari amici di Lecce News 24, ben ritrovati, apriamo il nostro TG con il saluto a Raffaella Piccino, preside da diversi anni all'Istituto Virgilio, nonché donna di cultura e grande umanità. Tutto il mondo studentesco leccese attendeva il suo ritorno da Bologna ma purtroppo non ce l'ha fatta a sconfiggere il cancro. Donna Raffa torna a casa, sono le scritte sulle striscioni dei cancelli del suo liceo. E i militari della stazione di Maglia hanno messo le manette ai polsi di un quarantottenne per attività di spaccio di sostanza stupefacente, ce ne parla Alina Spirito. Era sottoposto all'obbligo di dimora per precedenti reati ma continuava tranquillo nella sua attività di spaccio. Si tratta di Cosimo Treglia, quarantottene di Cursi, che è stato colto in flagranza di reato dai militari della stazione di Maglie. A seguito di perquisizione domiciliare l'uomo è stato trovato in possesso di una lunga serie di sostanze illecite. Quattro involucri di incarta a stagnola contenenti 4,5 g di hashish, un bilancino di precisione, tre involucri contenenti 4 g di marijuana, una piantina di marijuana dell'altezza di 20 cm, una busta contenente 86 g di altra marijuana. Infine la somma contante di 110 euro. Nella stessa circostanza è stato denunciato anche un quarantenne, in quanto sorpreso all'uscita dell'abitazione di Treglia, in possesso di due involucri in carta stagnola contenenti 1,5 g di marijuana. Cosimo Treglia proseguirà quindi i prossimi tempi presso la casa circondaliare di Lecce. E notizia delle ultime ore, ancora un altro incidente sul posto di lavoro. A Martano è precipitato al suolo un dipendente della ditta Ex Energia, mentre era intento a installare alcuni pannelli solari presso un'abitazione privata. L'uomo, un 62enne residente a Statte in provincia di Taranto, a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasportato presso il Vitofax di Lecce. E passiamo ora al caso FIOM-CGL, in attesa dello sciopero generale indetto per il 28. Il sindacato insieme ai suoi iscritti si sono riuniti questa mattina. Sentiamo. Da nord a sud, oggi tutti col fiato sospeso in attesa del verdetto del voto, quel voto che potrebbe cambiare il futuro e stravolgere ancora di più il potere sindacale nell'industria italiana. Il verdetto di una storia che sembra già ancora una volta scritto dall'alto. Lo chiamano l'accordo della vergogna, FIOM-CGL, un accordo che di fatto cancella tutta la storia di relazioni sindacali costruita nel nostro paese dal dopoguerra oggi. La FIAT impone in fabbrica nel sistema delle relazioni industriali italiane un modello aziendalista e neocorporativo, scrive in una nota la FIOM-CGL, cancellando il pluralismo sindacale riducendo ad un unico sindacato per un'unica compagnia, la Chrysler FIAT. Si costituisce un contratto unico nazionale per le aziende del settore auto della FIAT alternativo ai contratti nazionali di lavoro, che peggiora le condizioni di lavoro a partire dall'introduzione del modello pomigliano anche a Mirafiori. E' come se non bastasse, dopo giorni di silenzio del governo, il benestare del Premier allo spostamento della produzione FIAT, qualora si dovessero rifiutare i termini dell'accordo. A commentare le parole di Silvio Berlusconi, Donato Stefanelli, segretario regionale FIOM-CGL. E' difficile replicare, come dire, battutacce del genere. Una vera bestemmia. Credo che gli italiani debbano riflettere su chi sono i nemici di questo paese. Da ieri sappiamo che i nemici dell'Italia, dell'apparato produttivo e industriale italiano, dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici, sono due. Marchionne, che pensa di competere abbassando le tutele e negando i diritti fondamentali ai lavoratori. E' Berlusconi, il quale, per acquisire il sostegno di un pezzo importante di quella che comunque è stata l'industria italiana, cioè FIAT, in un momento di crisi della sua egemonia in questo paese, la butta in una maniera che è sicuramente da respingere. Un accordo che riduce le pause, riduce i salari, che mortifica sempre più gli operai. E' un destino già scritto. Guardi, nella speranza bisogna sempre credere. E io sono speranzoso che qualcosa possa cambiare. Se c'è la volontà qualcosa può cambiare sicuramente. Certo, l'esito del referendum che si svolgerà questi giorni a Torino, possiamo dire che possa essere un risultato scontato. Il potere sindacale, con l'accordo siglato a Mirafiori, svanisce completamente. Eliantos 2, Gabellone, Stefano e Seravezza illustrano oggi il parere dell'ARPA Puglia circa la realizzazione della centrale a Biomasse. Per noi c'è la Miriam Gabellone. Il caso Biomasse oggi arriva in provincia. L'ARPA Puglia, l'Agenzia regionale per l'ambiente, ha già espresso il suo parere, un no convinto, al progetto di Eliantos 2, la centrale a Biomasse, che la Italgest avrebbe intenzione di realizzare nella zona industriale di Casarano. Oggi insieme il presidente della provincia Gabellone, l'assessore provinciale alle politiche energetiche Stefano e il presidente del coordinamento dei comitati no alle centrali Seravezza per discutere sugli ultimi sviluppi circa questo tema scottante che ha generato non poche polemiche nel Salento. A sostegno della sua tesi l'ARPA ha presentato una serie di argomentazioni. La centrale da 25 megawatt è di grossa taglia ed è alimentata da oli non prodotti in loco dei quali non si ha alcuna certezza di qualità della provenienza e della sostenibilità ambientale relativa alla loro produzione. Per questo Eliantos 2 è in contrasto al piano energetico regionale che prevede invece la possibilità di realizzare piccole centrali a biomasse alimentate con materie prime prodotte in loco, quindi a totale filiera corta. Il progetto inoltre è in contrasto con la direttiva del Parlamento europeo la quale impone che gli oli non provengano da terreni con elevato valore di biodiversità e per questo è necessario che la società dimostri rispetto dei criteri di sostenibilità. Italgest dice ARPA non ha ottemperato a quest'obbligo. È necessario inoltre presentare un monitoraggio ex-ante dell'aria così come indicato dagli uffici della provincia di Lecce e l'ARPA sostiene che, poiché la centrale si dovrebbe realizzare in una zona densamente abitata, sia necessario misurare i livelli di inquinamento e di emissioni oggi e per almeno un anno per capire l'impatto di una grossa centrale sulla qualità attuale dell'aria. Insomma, una serie di premesse per giungere alla conclusione del no. E la città di Lecce ha un nuovo baby sindaco Rebecca Metcalf lascia la poltrona a Michelangelo Prisciano Ce ne parla Lina Spirito Un'aggiornata importante è quella di ieri per i ragazzi della città di Lecce infatti si nominava il baby sindaco 16 candidati per una poltrona ognuno dei 16 rappresentava la propria scuola, primaria o secondaria l'appuntamento nella sala consigliare di Palazzo Carafa su convocazione del sindaco Paolo Perrone Dopo la proclamazione dei consiglieri eletti il 26 novembre 2010 i ragazzi hanno espresso il loro voto e hanno eletto il loro sindaco Il verdetto ha visto vincere Michelangelo Prisciano frequentante la scuola a quinto egno sul filo di lana 5 voti infatti per il ragazzo che stacca di solo un voto ben 3 candidati Si tratta di Alessandra Medico eletta vice sindaco Sara Muscedda e Maria Concetta Pallara entrambe nominate assessori della giunta Il giovane Michelangelo ha pronunciato la formula del giuramento e ha ricevuto dal sindaco senior l'investitura con la fascia Arte e diversabilità un binomio possibile per da domani 14 fino al 23 partiranno una serie di appuntamenti tra arte e disabilità Sentiamo Partono domani 14 gennaio fino al 23 una serie di iniziative sotto un unico nome arte e diversabilità due importanti convegni la pratica artistica come antidoto alla noia al disimpegno e il discopolo moderno dalle disarmonie del corpo e della mente alle armonie possibili prospettive sui nuovi canoni etici ed estetici Poi sarà la volta della mostra di Massimo Amarangio docente di discipline pittoriche presso il liceo artistico Ciardo di Lecce in esposizione presso l'ex convento dei Teatini L'iniziativa consiste in una mostra di pittura scopo benefico finalizzata a finanziare l'acquisto di ausili necessari alle persone disabili Qui c'è stata grande attenzione da parte della provincia su un'iniziativa proposta da sfida del sindacato famiglie diversamente abili ed è un grande momento di riflessione perché il progetto riguarda non solo la mostra ma anche lunghi momenti di dibattito con esperti laddove si vuole proprio mettere in luce quelle che sono le diverse abilità di chi vive con disabilità abilità che spesso si manifestano proprio nel mondo dell'arte attraverso la produzione artistica in questo caso il progetto prevede tra l'altro anche il coinvolgimento delle scuole ci saranno poi dei laboratori e altre attività artistiche che è messi in atto dagli studenti delle scuole e dagli studenti diversamente abili In questa iniziativa con più serate, con più situazioni, una mostra, due convegni, conferenze eccetera noi l'abbiamo voluto abbinare grazie al presidente Vito Berti e a tutti i collaboratori all'arte e quindi vederla in questa prospettiva l'arte come possibilità anche non solo di riscatto ma anche di dimostrazione di come la persona secondo alcuni è disabile o diversamente abile per molti altri può essere anche artista e può essere uomo o donna di cultura molto più di chi è normodotato Officine della Musica aprirà ai battenti sabato 29 gennaio presso appunto le officine Cantelmo uno spazio dedicato alla musica ce ne parla Miriam Gabellone Prende ufficialmente il via il progetto del Comune di Lecce dedicato alla musica indipendente giovanile Officine della Musica mira a trasformare le officine Cantelmo in una casa della produzione musicale indipendente salentina un ricco programma di concerti, incontri di formazione, tour promozionali, videoclip partecipazione a fiere, un sito internet ed una serie di attività di intervento sui bisogni sociali il tutto partirà dal prossimo 29 gennaio tante le esibizioni dal cantatore Romeo Saifono Kit dal rapper Marrakesh alla splendida voce internazionale di Melissa Auf der Maur le officine della musica nascono come luogo di formazione e specializzazione di figure professionali operanti nell'ambito musicale per questo una serie di incontri e corsi realizzati in collaborazione con l'Università del Salento apriranno una finestra sulla storia della musica e soprattutto del rock e ora qualche santa di pubblicità Victor Moda Uomo a Nardò www.victormodauomo.it La cura dei particolari Una scelta importante GB Infissi Porte e finestre per sempre Chiama al numero verde 800 98 77 08 GB Infissi a Nardò www.infissipersempre.it Memar Memar archivia, elabora, digitalizza www.memar.it Come sempre infine lo sport con il Lecce Geda c'è sempre una prima volta per segnare al Milan Sarà sicuramente uno scontro durissimo La capolista ha infatti recuperato Ambrosini e Nesta Sentiamo Dopo la partenza al frumicotone con l'ingaggio di Tomovic ancora prima dell'apertura il mercato giallorosso sta vivendo una fase di stallo Per il difensore Santa Croce non si registra ancora alcun progresso e nella giornata di ieri è saltato lo scambio con l'Atalanta Arne Magni Corvia a causa del rifiuto del bomber romano di scendere di categoria Sul fronte delle partenze infine a giorni si dovrebbe concretizzare il trasferimento di Diamutene al Vicenza anche se Triestina e Pescara non hanno del tutto perso le speranze Prosegue molto bene intanto la premendita per la gara contro il Milan Fino ad oggi sono stati staccati 6500 tagliandi con la tribuna est superiore esaurita Nella giornata di ieri è toccato al brasiliano Jeddah presentarsi davanti ai tacchini della stampa Contro i rossoneri bisognerà avere lo stesso atteggiamento dell'Olimpico affermato il brasiliano Sarà necessario non commettere l'errore di scendere in campo già da sconfitti Con il Milan ho sia pareggiato che perso e non ho mai segnato C'è sempre una prima volta a concluso e spero che si realizzi domenica sera davanti ai nostri rifosi Anche per oggi è tutto Il nostro Tg termina qui Buona giornata Glamour Car Glamour Car L'eleganza si fa strada